Mentre i genitori Chiara Ferragni e Fedez, sono alle prese con Sanremo 2023, cosa stanno facendo i loro bimbi Leone e Vittoria? Tutti stanno parlando di Chiara Ferragni in queste ultime ore. Dagli scivoloni durante la conferenza stampa di Sanremo, all'ansia da prestazione per il suo debutto televisivo, fino al toto argomento del monologo tanto atteso, che farà stasera durante la prima puntata del festival di Sanremo di cui sarà co-conduttrice insieme ad Amadeus e Gianni Morandi. E se lei è già sbarcata in Liguria da diversi giorni? Adesso l'ha raggiunta anche suo marito, Fedez, anche lui alle prese con l'edizione Sanremese del suo podcast Muschio Selvaggio che è sbarcato, per l'occasione, su Rai 2. Ma se i Ferragni sono impegnatissimi con il lavoro dove hanno lasciato i loro due bambini Leone e Vittoria, e cosa stanno combinando i baby Ferragni mentre i genitori sono a Sanremo? Come previsto i due bimbi si sono trasferiti per qualche giorno a casa della nonna Marina. La mamma dichiara che li sta ospitando e intrattenendo come meglio può. Tra cene fuori, gite in montagna e tanti giochi insieme ai loro cuginetti. I più piccoli di casa Lucia Ferragni, sembra stiano vivendo un momento d'oro alle prese con giochi, coccole e tanto divertimento lontano dai loro genitori, e insieme a parte della loro famiglia, come la zia Francesca Ferragni, e la nonna Marina di Guardo. I bimbi, infatti, dopo aver salutato prima mamma Chiara a cui hanno regalato dei disegni porta fortuna per il suo debutto televisivo, e poi papà Fedez. Adesso sono pronti a godersi i cinque giorni di svago coccolatissimi da nonna Marina che non fa mancare loro niente e chissà se stasera guarderanno la mamma in tv nel suo debutto alla conduzione di Sanremo. Noi siamo certi di sì ma staremo a vedere. Noi siamo certi di sì ma staremo a vedere. Noi siamo certi di sì ma staremo a vedere.